Si è svolta questo pomeriggio al Castello del Parco Fienga a Nocera Inferiore la presentazione ufficiale di Nocera Jazz Festival, la rassegna musicale che coinvolgerà la città capofila dell'Agro dal 1 al 15 luglio. Tanti artisti di richiamo internazionale saranno presenti a Nocera Inferiore tra il Castello del Parco, il Chiostro del Convento di Sant'Antonio e il Cortile della Curia Vescovile. Sindaco De Maia è una serata importante perché Nocera Jazz Festival è un evento con artisti di livello internazionale. Un'idea che prende spunto dall'iniziale programma di mandato, noi parlavamo di parco urbano con la villa comunale San Giovanni in Parco, il Castello Fienga e la caserma Tofano e quindi l'idea di rimpinguare, rivalutare cercando di spingere su questi posti. E poi un finanziamento importante che abbiamo ottenuto dal Ministero per il restauro dei deruditi medievali e quindi che è alla progettazione, presto terminerà andremo in appalto, era l'idea quindi di restituire alla città, un momento importante, l'abbiamo fatto come al solito, dico io, con un po' di ambizione, con un direttore artistico, Mario Berna, di origine Nocerini, che ci ha consentito di entrare in un programma con artisti importanti, l'ambizione è quella di entrare in un programma, in un circuito, insomma, quantomeno nazionale e quindi abbiamo presentato questo programma, oggi presentiamo questo programma, iniziamo con la prima iniezione di un modo diverso, di fare anche un po' il jazz, lo faremo abbinando chiaramente i momenti di visita dei luoghi storico-culturali e questo insieme al programma che stiamo facendo nella Corte Comunale rivolto ai bambini a margine della chiusura dell'anno scolastico e con degli eventi che faremo nel mese di agosto con il Teatro Pubblico Campano, due eventi su tutti, costituirà il nostro programma estivo dell'amministrazione, chiarendo che però accanto a questo comunque avremo chiaramente la volontà e l'impegno di patrocinare le azioni del mondo dell'associazione Nocerino perché saremo sempre accanto al mondo dell'associazionismo. Ferdinando Padovano, presidente della Commissione Cultura della Comune di Nocera Inferiore, si presenta oggi Nocera Jazz Festival. Questa rassegna che coinvolgerà il Castello del Parco ma non solo e che è una dedica ai compianti Elia Pirollo e Francoforte. Sì, l'amministrazione riparte da oggi, 20 giugno, con questa conferenza stampa sul solco che è stato tracciato dai grandi amici Francoforte e Elia Pirollo e oggi l'amministrazione presenta questa nuova e straordinaria rassegna salutando quella che fu Gets in Parco creata dal grande sindaco Aldo di Vito, Elia Pirollo e Ondina Sannino e per creare quindi una nuova pagina ovviamente sulla scorta del passato. Quindi si riparte da qui dove presenteremo queste sei straordinarie serate con sei artisti di fama internazionale e non solo. È una rassegna fortemente voluta dal sindaco Paolo De Maio e sono infatti già mesi che ne stiamo discutendo perché Nocera, parliamoci chiaro, c'è un qualcosa di magico e di suggestivo che è stato lasciato da Gets in Parco. Gets in Parco, a parte una breve parentesi del 2021, manca da ben 13 anni e quindi visto che Nocera è diventata dal 1998 un po' quella che era la patria della musica Gets non a caso ha visto calcare il palcoscenico del cortile del Palazzo Fienga, degli artisti straordinari, notevoli che hanno comunque fatto da eco e hanno portato qui tantissimi spettatori dalla campagna e non solo. Ovviamente la speranza è quella di creare un progetto importante in questi anni e di migliorare sempre di più questa nuova Kermess. Torniamo un attimo indietro. Commissione Cultura che lavora senza sosta nello scorso fine settimana le giornate europee dell'archeologia alle quali ha aderito anche la cittadina Cera Inferiore. Quali sono stati i risultati e i numeri registrati tra l'area archeologica, il Museo di Cesano e il Castello del Parco? Innanzitutto aggiungo che ovviamente lo scopo di questa Kermess, di questa rassegna, è quello che già in passato si era un po' inventato, il Grandi Liaco Londina, quello di valorizzare questo posto, questo castello, questo parco e ovviamente non solo qui ma due concerti ci vedranno impegnati sia all'interno del cortile della Cura Vescovile, quindi accanto al Museo di Cesano e anche all'interno del Chiostro di Sant'Antonio. Non a caso il 15 luglio al Chiostro chiuderà il grandissimo jazzista Paolo Freso che per noi sarà un motivo di vanto e Paolo Freso ritorna qui a Nocera dopo circa 16 anni dal 2007. Quindi noi andremo a valorizzare quello che è un po' lo scopo e l'obiettivo che stiamo portando avanti in questi mesi i nostri siti di interesse culturale. Questo weekend ci sono state le giornate europee dell'archeologia, 16, 17 e 18 che hanno visto impegnate le varie associazioni quindi sui siti e si sono registrate nonostante il caldo, nonostante la domenica pomeriggio e sera sono state tante le presenze registrate. Vi posso permettere di riportare i numeri più o meno precisi di quella che è stata l'area archeologica perché abbiamo messo un vero e proprio registro per le firme, la provenienza delle persone e tra persone che hanno registrato quindi firmato la loro presenza e la provenienza. Tanti ragazzini che sono scesi molto curiosi per per ammirare quello che è l'area possiamo più o meno registrare circa 700 presenze. C'è stata in due giorni ovviamente, venerdì e domenica, ci sono state le visite guidate qui al castello e i ragazzi parlano anche qui di un notevole afflusso di visitatori che hanno ovviamente visitato sia il castello che l'area qui intorno e anche la sera che c'è stata questa pericastolo, questa bellissima scommessa che l'associazione che abbiamo venito al castello si è inventata ha registrato numeri notevoli. I due musei privati di Ocesano e il museo archeologico provinciale dell'Agro Nocerino anche lì si sono registrate delle presenze importanti e quindi questo ci spinge a lavorare sempre meglio per il futuro e infatti da qui a breve andremo con le associazioni a calendarizzare insieme all'assessore Fortini dell'assessore Giannotti dei nuovi eventi da qui al prossimo anno, sempre ovviamente con lo scopo di favorire e anche invogliare quello che è l'afflusso dei turisti nei nostri siti. Sergio Claudini, presidente dell'associazione Ridiamo Vita al Castello che effettivamente negli ultimi anni sta lavorando tanto per valorizzare un posto amato dai nocerini ma forse a volte anche dimenticato. Più che concentrarci sul Nocera Jazz Festival che è l'argomento centrale, io con lei mi spingo in avanti. Apericastol ha avuto un successo enorme, quali sono i programmi in cantiere da realizzare qui nel Castello del Parco? Sì, grazie. Apericastol è stato un evento realizzato col supporto dell'amministrazione comunale della cittadino sociale inferiore insieme alla cooperativa sociale Eteria e realtà artistiche virtuose del territorio. È stata una sfida, abbiamo riscontrato un buon risultato e questo ci dà la spinta e l'energia per proseguire ed andare avanti nella valorizzazione e promozione del Castello. Sicuramente è un format che noi riproporremo perché è molto richiesto, ha avuto una buona risposta, quindi è arrivato il messaggio che noi volevamo lanciare ovvero la possibilità di poter godere e di poter vivere dei beni culturali al di fuori insomma anche di attività quali possono essere delle visite guidate ad esempio che comunque restano perché la divulgazione per noi è fondamentale quindi è un perno della gira associativo. e sicuramente riproporremo il Cineforum come già abbiamo fatto l'anno scorso e poi eventi per esempio come Fantasme al Castello quindi una rievocazione storica, teatrale di quelle che sono le leggende e la storia del Castello del Parco e ovviamente insomma noi come ente del terzo settore che è impegnato per la valorizzazione di questo luogo e che lavora da anni sul territorio lo facciamo in sinergia con le istituzioni locali perché è nell'interesse dell'associazione proseguire un dialogo proficuo e collaborativo con quella che è l'istituzione comunale e con quelle che sono le realtà non solo associative locali. Oggi noi ci troviamo qua, siamo davvero molto lieti di aver ricevuto questo invito e ovviamente ringraziamo e la nostra partecipazione insomma oggi ci fa veramente tanto piacere. Mario Berna, direttore artistico di Nocera Jazz Festival, io le chiedo innanzitutto qual è il lavoro che c'è alle spalle di un evento così importante e così di rilievo per la città capofila dell'agri. Questa è interessante, la domanda è veramente intelligente. Beh, dietro un festival c'è una produzione impegnativa dove comporta una grande energia di persone e una grande ricerca soprattutto di denaro e quindi a partire dalla contrattazione dei cachet degli artisti che sono sempre più alti. Quindi chi è bravo nella produzione io cerco di fare il mio lavoro in maniera buona, bella e con passione cercando di stare in un budget. Quindi è una guerra continua. Però devo dire che gli artisti chiamati hanno risposto in maniera molto positiva e con entusiasmo al ritorno di alcuni artisti al Parco Fienga. Dopo una grande tradizione che era già simparco da parte di Elia Pirollo, ma prima di Elia tengo a precisare la grande visione oppure il grande visionario del professor Francoforte che negli anni Ottanta in una terra martoriata dalla camorra portava a Nocera Inferiore. Io ero un ragazzino artisti della scena afroamericana, quindi San Ra, Cecil Taylor, McCoy Tanner, Art Black, che tu vedevi in strada questi afroamericani enormi con delle facce colorate ed erano concerti incredibili e questo ha fatto sì che il sottosito sia innamorato al mondo del jazz e mi ha portato insomma a girare il mondo e avere esperienze con artisti incredibili, straordinari, che ho chiamato, alcuni ho chiamato in questa rassegna. Voglio precisare che non è prettamente jazz, ma jazz contaminato con il solo, con il pop, con la musica brasiliana come quello che farà Chiara Civello al concerto del 14 di luglio al Parco Fieng. Iniziamo con Selena Brancale, che attualmente è una delle voci più importanti in assoluto in Italia, collaborazione con Richard Bone, apprezzamenti da parte di Quincy Jones, un disco bellissimo che si chiama Io so così, che sta spopolando un po' in Italia, ovunque, nei teatri, nei festival, ha fatto due bellissimi soldati all'auditorium di Roma. Ci sarà un quartetto molto bravo con lei, un battetista che si chiama Dario Panza, che è un battetista che viene dall'hip hop, quindi il concerto sarà inteso di black music, da non perdere in assoluto. Il 5 ci sarà la musica di Tony Morell, un artista delle Barbados che reside tanti anni in Inghilterra, ha collaborato con Earth, Wind & Fire, con Chate, con Chaka Khan e con tanti altri. Per 20 anni è stata la voce inconfondibile degli incogniti e sarà con il suo quartetto con un concerto ricco di funk, di sole e di jazz. Andiamo poi alla doppia serata del 9 luglio, al Castello del Parco sempre, ci sarà una contrabassista napoletana che io adoro, che si chiama Ilaria Capalbo e invece, come diceva Paolo Conte, che le donne non amano il jazz, ma le donne negli ultimi anni amano il jazz e sono diventate veramente protagonisti come Ilaria, una contrabassista eccezionale, scappata da Napoli da 5 anni, lavora in Nord Europa e insegna al Conservatorio di Stoccolma e con Federick Nordstrom ci faranno rivivere alcuni suoni del jazz classico rivisitati nella sua visione. Seguirà Anthony Strong che è un crooner inglese di Londra con il suo trio, un jazz più mainstream, comunque con una voce che ricorda molto Gemicale, ma apprezzato da Rod Stewart concerto, assolutamente da non perdere. Questa serata invece del 12 la consiglio, una serata tra virgolette della Young Generation, al cortile della Coria Vescovila, avremo Anna Fedeston che è un'artista anglo-francese, presenta piano voce e loop station, tutta la sua influenza del gospel, del soul, del blues e del jazz. Il trio di Manzoni ricorda molto il suono di Esbon Trio, è un trio che ha spopolato in Nord Europa, ha registrato un disco a Bratislava, un doppio album ad Oslo, un disco meraviglioso, echi di Esbon come dicevo, ma anche rivisitazioni in chiave jazz di pezzi di Dead Bob e di Zeppelin. Chiara Civello, il 14 luglio del castello del parco con il suo disco Sono come suono, quindi un concerto di jazz, di pop e di Bossa Nova con la sua influenza nata in Brasile, con tanti anni di collaborazione con Gilberto di Cile, Cico Barque, Caetano Veloso e tanti altri. Chiuderemo il 15 con il grandissimo suono di Paolo Freso, con il suo storico Devil Quartet, con un eclettismo di Paolo Nino della Porta, il contrabbasso e il boboferro alla chitarra e tutte le serate saranno poi arricchite con DG7, la tenuta caldiere, vi aspettiamo e buon jazz a tutti. Chiudiamo con informazioni utili per i cittadini, come bisogna fare per prenotarsi e per partecipare a Nocera Jazz Festival? Intanto c'è un sito, nocerajazzfestival.it e le vendite online sono postoriservato.it, Poi anche qua ci saranno quattro concerti a pagamento e due che svederemo a breve gratuiti.